Domenica 24 maggio 2020, oggi mi sono immersa fino ai fianchi al mare, una bella spiaggia con la sabbia chiara, più scura della sabbia del posto dove sono abituata ad andare da quando ero piccola. E quindi ti saluto, vai nella pagina di Talented Time, Talented Tino Intermedio Time e cerca la mia Mungla Sweet Sex, Mungla Sweet Sex. Oppure anche se vuoi ti leggi la biografia e all'interno troverai dei link che devi fare però, con i quali devi fare un copia e un colla perché non ti mandano direttamente lì. E in quei link ci sono altre cose che puoi andare a vedere, ad ascoltare, a leggere che sono composte, scritte, create da me, Germana in Artemulla.